La ditta Covenegilio di Pavia, siamo una ditta artigiana, un family business come si dice, che produce macchine per riempimento e chiusura a flaconi, nello specifico profumeria. Esistiamo da moltissimi anni, siamo specializzati in questo campo da circa 25 anni, più o meno. Serviamo realtà italiane ma principalmente all'estero. Siamo presenti qui al Cosmo Prof, presentiamo il nostro solito catalogo di macchine per profumeria, appunto laboratorio e anche produzioni industriali e qualche piccola novità più appunto dedicata al packaging, all'innovazione del packaging. Sviluppiamo molto di ciò che facciamo internamente, andando incontro alle necessità della clientela, specie nel packaging che nella profumeria cambia continuamente. Continuamente